Sistema ripartizione, quello che molti miei colleghi non conoscono, molti fanno confusione fra il fatto che il contributivo e il retributivo è il sistema ripartizione, cioè in ogni caso un sistema ripartizione paga le pensioni odierne con i contributi odierni, quindi se tu, quello che non ha capito Salvini e tutti gli altri, dicono ah ma noi mandiamo in pensione prima così entrano i giovani, quante volte l'abbiamo sentita sta balla quando hanno fatto quota 100? Ora, quanti sono andati a guardare i risultati? Perché ci sono ormai i risultati, non è successo, ci sono i risultati che hanno controllato per la congiuntura, cioè non è una balla, chi è che chiede il conto a Salvini di 23 miliardi di quota 100? Chi è che lo chiede? Questo non ho capito, però quando dicono, comunque sia se uno va in pensione i giovani ne vengono, i giovani è il contrario, perché se va in pensione prima aumenta l'esborso pensionistico e devono aumentare i contributi caricati sulla Corte. che lavora, quindi questo è qualcosa che Michele e quelli che l'hanno studiato lo sanno, purtroppo nel dibattito politico non si riesce a far capire, a mio mi è capitato in tv qualche volta, mi guardavano come un alieno, è così, ecco il costo di dire, se no uno scusa è quota 100, ma quota 90, quota 80, ma andiamo in pensione tutti, ma aumentando l'esborso pensionistico devo aumentare dal lato delle entrate, del sistema previdenziale, i contributi. aumenta i contributi, si riducono gli stipendi netti in tasca alla gente. E questo è il punto. Salvini è arrivato al 34% dicendo questa scemenza, ripeto, non si riesce neanche a spiegare agli italiani che abbiamo i dati, è stato dimostrato, era una balla. ed è controproducente per i giovani perché riduci lo stipendio netto che già è basso per gli under 35 che un giovane riesce ad avere.